Lockdown per i Novax Toscani, lo chiede a gran voce il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni. La vaccinazione anti-covid, per fortuna, afferma, sta funzionando e la terza dose protegge in modo sempre più evidente. L'ondata della contagiosa variante Omicron, nella grandissima parte dei casi, non porta all'ospedale per ventilazione forzata o terapia intensiva, ma consente di gestirsi e superare a casa il coronavirus. Per rallentare il contagio, ora, dice ancora Gianni, è inevitabile il lockdown per i non vaccinati, già attivo con concreti risultati in Austria e Germania. Una misura che, secondo Gianni, sarebbe l'unica soluzione per spingere ulteriormente alla vaccinazione che limita le conseguenze più severe del covid, scelta che si inserirebbe nel complicato quadro dell'attuale impennata dei contagi.